Covid, i complimenti della Vicepresidente Princi e all'Istituto Costanzo di Decollatura per campagna sensibilizzazione. Mi complimento con l'Istituto di Istruzione Superiore Costanzo per la campagna di sensibilizzazione alla vaccinazione portata avanti nei mesi scorsi e attraverso la Preside rivolgo un encomio a tutta la scuola per le iniziative realizzate. Con queste parole la Vicepresidente dell'Aggiunta regionale Giussi Princi ha manifestato il suo apprezzamento per l'attività educativa dell'Istituto Costanzo di Decollatura diretto dalla dirigente scolastica Antonella Mongiardo. Giorni fa in occasione della premiazione da parte della protezione civile della studentessa Benedetta Cardamone per il videocontest sui vaccini la Vicepresidente regionale con delega anche dell'istruzione Giussi Princi ha telefonato alla Preside Mongiardo per congratularsi personalmente sulle iniziative svolte dalla scuola. Una telefonata dice la dirigente scolastica che ci ha sorpreso tutti per la spontaneità e il desiderio di condivisione manifestati, doti umane non scontate in chi ricopre cariche politiche importanti, un riconoscimento che ha riempito di gioia la comunità scolastica in primisi i nostri ragazzi che si impegnano nelle attività programmate, dandoci spesso prova di creatività e talento. Ma anche una soddisfazione per i docenti più volenterosi e per il personale tutto della scuola, il direttore, gli assistenti amministrativi, tecnici, ausiliari e i miei collaboratori. Noi tutti, prosegue la Preside, abbiamo apprezzato molto la sensibilità dimostrata dalla dottoressa Princi, una professionista attiva e impegnata non solo nelle istruzioni ma, ancora prima, nel settore dell'istruzione. Essendo una dirigente scolastica, vicina ai giovani è nota per il suo grande attaccamento alla scuola.